Vai sud! Prende, io fossi interdito, non mi farei vedere da qualcuno, eh? Eh, guarda, uno bravo, però, eh! Apriamo una macelleria da splendido? Tià! Sei sicuro, eh, che sei tutto a posto, tu? No, vabbè! Nel nostro gruppo gente normale, hai presente i manicomi? Bene, qualche volta li riaprono per noi, perché le cose che succedono in questo gruppo, se venissero raccontate ad un team di psichiatri, si metterebbero le mani in testa e vorrebbero cambiare mestiere, perché per noi cura non ce n'è!